Presente, Perri presente, Di Fede, Assente giustificato, Pier Santi presente, Nenienti presente. Il comune di Valperga ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria di Reine Bisiacchi, contesta di Valperga Caluso e Masino, nonché erede diretta di Luigi Valperga, giaconte di Masino e di Caluso. La nobile donna è la proprietaria del complesso del quale fa parte il santuario di Belmonte, uno dei simboli non solo della comunità valperghese, ma dell'intero canavese e con lei da diverso tempo si sta imbastendo un progetto legato proprio a quella che è una grande ricchezza architettonica religiosa, tra l'altro da quasi vent'anni anche patrimonio dell'UNESCO. Nel corso del Consiglio Comunale, andato in scena nella salata di giovedì 11 maggio, alla presenza dei soli rappresentanti della maggioranza, è stato votato all'unanimità al conferimento, che sarà poi successivamente suggellato, come specificato dal primo cittadino Walter Sandretto, tra fine giugno e inizio luglio, quando la contessa sarà in quel di Torino. Ad appoggiare a pieno questa scelta è stata anche la politica a livello regionale e nazionale. Infatti nel corso dell'assise, dopo che il Vice Sindaco Graziano Cortese ha letto le motivazioni che hanno portato alla cittadinanza onoraria, gli assessori Katia Perri e Antoniana Megnetti hanno letto le lettere dei consiglieri regionali Mauro Favendracane, che si sono complimentati con il Comune di Valperga per tale decisione.